Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con i giornali in edicola la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi sabato 4 settembre 2021. A tenere banco sulle prime pagine del giornale è sempre la proposta del governo di arrivare a un green pass obbligatorio per tutti, quindi un piano vaccinale per tutti gli italiani e una proposta che ovviamente divide i partiti. Preoccupano intanto i dati che arrivano dal rilevamento settimanale sull'andamento dei contagi, ben 17 regioni sono ora a rischio e poi ci sono le notizie dal fronte afgano. Mandiamo con ordine cominciando con il Corriere della Sera che a proposito del green pass titola l'obbligo di vaccino agita i partiti. Salvini siamo contrari ma restiamo nel governo, dubbi nei 5 stelle però Conte non chiude, allarme dei presidi sulle classi senza mascherine se tutti gli studenti sono immunizzati, si rischiano discriminazioni e allora leggiamo il richiamo che cerca di riassumere tutta questa vicenda. Partiti divisi sull'obbligo di vaccino, la Lega non tutta, si schiera per il no ma senza intaccare la tenuta della maggioranza, siamo contrari all'obbligo ma restiamo al governo garantisce Matteo Salvini, emergono dubbi anche all'interno del Movimento 5 Stelle ma Conte non chiude e sulle classi senza obbligo di mascherina se tutti gli studenti sono immunizzati c'è da registrare la preoccupazione dei presidi, si rischiano discriminazioni però la firma della DPCM arriverebbe solo a fine settembre e poi come vedete lo studio sugli effetti della variante Delta sale il rischio dei ricoveri. E ancora la Lega è divisa, vuole evitare un voto di fiducia proprio a proposito del Green Pass, Salvini confida che sul Green Pass Draghi gli risparmi il prendere o lasciare la fiducia che lo metterebbe ancora più nell'angolo dove si è cacciato per tenere un pezzo del suo elettorato. E poi ci sono le notizie economiche, la fiducia nella ripresa, la crescita sarà più forte, il forum a Cernobbio. Ne parlano Giuliana Ferraino e Fabrizio Massaro. Il forum Ambrosetti di Cernobbio celebra la crescita dell'Italia, arriveremo quasi al 6% di rialzo del PIL, sottolinea Carlo Cottarelli e si dichiara molto ottimista anche Alberto Bombassei. Segnali contrastanti dagli Stati Uniti dove il lavoro sta rallentando, Roma è tradizionalmente per noi un partner di grande rilevanza, scritto nel suo messaggio il presidente russo Vladimir Putin. E poi c'è l'editoriale di Massimo Franco che titola Cambio di gioco, leggiamo un passaggio. Mario Draghi sta definendo il rapporto tra il proprio governo e i partiti in un modo che potrebbe far pensare a un rimodellamento delle gerarchie istituzionali con Palazzo Chigi in un ruolo quasi tolemaico e il sistema politico e parlamentare impegnati in un dibattito animato ma anche separato dalle sorti dell'esecutivo. In realtà questa apparente scissione tra premier e maggioranza che lo sostiene dipende dalle condizioni eccezionali che hanno portato alla formazione di una coalizione vicina all'idea di unità nazionale. Di più ne è la premessa e almeno nelle intenzioni dovrebbe servire soprattutto a tracciare sfere di competenza e di influenza distinte tra i vari protagonisti dopo la confusione e gli sconfinamenti degli ultimi decenni e anni. E poi il resto dell'editoriale ma vedete a centro pagina un'altra foto drammatica, le fiamme e il fumo che si sono alzati ieri dai piani alti dell'edificio di piazza Carlo Felice in centro a Torino dove è scoppiato un violento incendio. Ore di paura le fiamme hanno distrutto attici e mansarde. E leggiamo il titolo incendio nel cuore di Torino feriti e famiglie evacuate. Forse la scintilla di una saldatrice al lavoro su una cassaforte. Fatto sta che in un attimo le fiamme hanno attaccato un antico edificio di fronte a Porta Nuova a Torino e si è poi esteso ai tetti vicini. Oltre 100 evacuati, 5 feriti. Insomma un altro incendio dopo quello di Milano che ha distrutto un grattacielo. E poi le vicende che vengono dall'Afghanistan. I talebani preso il Panjshir. I ribelli però negano la resa. Mistero su Mossud. Guerra di propaganda tra talebani e ribelli. I primi annunciano di aver preso il controllo del Panjshir. Gli altri negano di essersi terresi. Giallo sulla sorte di Massud. Alcune voci lo danno in Tajikistan. E poi c'è l'intervento. Europa ha una voce sola. Ora un piano per Kabul. Silvio Berlusconi scrive Ora che il dramma afgano sembra essersi compiuto con la partenza da Kabul degli ultimi voli americani, sono molte le analisi sugli errori delle ultime amministrazioni americane, ma soprattutto sul futuro del ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Se ne parla poi nelle pagine interne. E passiamo alla Repubblica che titola, vedete a centro pagina, in taglio alto con questa fotografia dei combattenti talebani a Gul Dara in Afghanistan che si preparano per una parata. A Kabul in viaggio con l'esercito talebano, scrive l'inviato Pietro del Re. Barba Corvina e occhi ferini. Il talebano doganiere ci guarda incredulo. Indossa una camicia lunga fino al ginocchio, sulla quale porta un elegante gilet di rana rosso bordeaux. Col pollice continua a indicare la direzione opposta a quella dalla quale arriviamo, chiedendo Kabul. Sono le 7.30 del mattino e qui c'è solo gente che fugge dall'Afghanistan. Nessuno vuole entrarvi salvo noi. E poi si parla appunto di questo viaggio all'interno del paese afgano. E poi c'è un sondaggio che è particolarmente interessante, condotto proprio dal quotidiano Repubblica. Obbligo di vaccino sono favorevoli 8 italiani su 10. Dicono sia il Green Pass, anche gli elettori di Salvini. Fratelli d'Italia, il partito con più consensi seguono Lega e PD. Insomma c'è la voglia davvero di superare questa emergenza della pandemia. E poi c'è Draghi, l'incognita della solitudine, ne scrive Ilvo Diamanti, e i confini dell'autorità di Boeri e Perrotti che analizzano proprio le questioni giuridiche legate all'obbligo vaccinale. E a proposito di obbligo vaccinale ne parla anche la stampa in apertura, il quotidiano di Torino che titola Vaccini e Green Pass. L'Unione Europea sta con Draghi. Gentiloni, il commissario europeo, afferma non si dia cittadinanza politica in Ovax. Ma Salvini insiste, voteremo no e staremo al governo. Il commissario europeo elogia Palazzo Chigi, l'agenzia del farmaco, la scelta spetta ai singoli stati. Non aspettino noi. Leggiamo l'inviato Bologna, Francesco Olivo. La reputazione dell'Italia ora è alta dopo una sbandata. Il commissario europeo Paolo Gentiloni, alla festa nazionale dell'Unità di Bologna, dialoga con il direttore della stampa, Massimo Giannini, ed elogia il lavoro di Mario Draghi su vaccini, Green Pass e riforme, ma manda un messaggio forte e chiaro sui fondi europei. Non si pensi che tanto ormai i soldi sono arrivati. Bisogna fare le riforme e rispettare i tempi previsti, avverte. E poi il Quirinale, Mattarella, il Premier e il senso dello Stato. E ancora la vicenda legata alle polemiche su Cingolani, che è aperto al nucleare Conte e la battaglia atomica. E poi c'è il dibattito. Caro Cacciari, ogni libertà ha i suoi limiti, scrive Zagrebelsky. E ancora le polemiche su Montanari, Foibe e Shoah, Destra bugiarda, Giovanni De Luna. Il film di Venezia, Sorrentino, e noi, i diari del dolore. Poi vedete a centropagina, l'inferno sopra Torino, fuoco un palazzo in centro, cinque feriti, cento evacuati. Quei ricordi in fumo, nelle case bruciate. Elena Lowenthal scrive, come si fa ad entrare nella testa e nel cuore di chi perde la casa, nello spazio di qualche minuto, nel calore insopportabile di una fiammata, in quell'odore di bruciato che non va più via dalle narici, dai vestiti, dalla vita. Perdere la casa non vuol dire soltanto non ritrovare più i propri muri, le stanze e troppo di più. E nelle pagine interne si spiega il perché. E passiamo all'avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani, che titola a pass più veloci. Subito in cabina di regia incontri coi sindacati. Poi dal 4 ottobre l'estensione dei certificati a dipendenti pubblici, ristoratori, addetti a piscine e palestre, previste due settimane tra varo della norma ed entrata in vigore. Tamponi verso un taglio del prezzo. Il Premier prova a serrare le fila in agenda un vertice chiarificatore con Salvini, poi l'altra fila di incontri politici e tecnici per arrivare al decreto che aprirà la fase 2 del Green Pass, che estenderà l'obbligo della certificazione ai lavoratori della pubblica amministrazione e ai dipendenti dei comparti privati in cui già si applica per i clienti. Il capo della Lega tratta sui vaccini, ma attacca ancora sull'amorgese, il Ministro dell'Interno. Intanto sull'obbligo vaccinale si inizia a ragionare sui vantaggi immediati, difficoltà tecniche e incognite. E poi, vedete questa fotografia a centro pagina, niente video dai libici, così l'intesa è violata, l'attività della Guardia Costiera mai ripresa. I video che dovevano confermare la capacità operativa e il rispetto dei diritti umani da parte della cosiddetta Guardia Costiera Libica non sono mai stati ricevuti dagli enti europei competenti. E la risposta ufficiale è una domanda di avvenire, per sapere che fine avessero fatto le microcamere che dovevano essere montate sulle motovedette donate dall'Italia. Ma è davvero così? O i filmati sono stati secretati anche nei confronti del Parlamento europeo? Questa la domanda inquietante. E poi, a proposito di Afghanistan, diritti, donne e terrore. I paletti dell'Unione europea a Kabul. Le condizioni dell'Europa per il dialogo con i Taleban. Oggi il nuovo governo. E leggiamo. Mentre oggi i Taleban sveleranno il loro governo, l'Unione europea mette cinque paletti per un dialogo futuro e per la eventuale ripresa degli aiuti allo sviluppo. L'Europa dialogherà con gli jahidisti, ma a condizioni precise, ha ribadito l'alto rappresentante Joseph Borrell. La prima, l'Afghanistan non serva da base per esportare il terrorismo in altri paesi. Seconda, il rispetto dei diritti umani, soprattutto quelli delle donne, dello Stato di diritto e della libertà dei media. Terza, la creazione di un governo di transizione inclusivo. Quarta, libero accesso alla aiuto umanitario. E infine, il rispetto dell'impegno preso dai Taleban sulla partenza dei cittadini stranieri afghani a rischio che desiderano lasciare il paese. Intanto si combatte ancora nel Panjshir. I ribelli dicono di aver fatto breccia e di essere entrati nella valle che neanche i sovietici erano riusciti a violare. Il comandante Massoud, figlio, lo nega. E leggiamo anche un passaggio dell'editoriale di Giorgio Ferrari che parla delle mosse cinesi a Kabul e in Asia centrale. Prove di anno del dragone. La Cina è un amico fidato dell'Afghanistan e non attendiamo altro che incrementare questa millenaria relazione. Abbiamo sempre rispettato la sovranità, l'indipendenza e l'integrità del nostro vicino e continueremo a farlo in un'ottica di sviluppo e prosperità nello sforzo comune della realizzazione della via della seta. La prima frase riportata dal China Daily, quotidiano ufficioso del Partito Comunista cinese, è del vertice Taleban. La seconda proviene dal ministro degli Esteri di Pechino. Non occorre essere esperti di sottigliezze diplomatiche per accorgersi che dietro a questo paravento di lacca, di sapore un po' retro, si cela una realtà. A neanche una settimana di distanza dalla presa di potere dei talebani, mentre il nuovo regime di Kabul si avvia a formare il proprio governo nazionale, la Cina si assume il ruolo e l'onere di lord protettore del paese. Compito non difficile considerando le disastrate condizioni economiche del paese, l'assenza totale di ferrovie e l'industria estrattiva come unica risorsa e la necessità quindi di avere almeno un partner forte e dominante, capace di indirizzare lo sviluppo economico e di governarlo. Compito un po' più difficile invece a causa dell'articolata composizione etnica dell'Afghanistan e della persistente tendenza ad una sorta di autogoverno tribale che ha fatto dire recentemente ad Henry Kissinger che questo antico cuore e crocevia d'Asia è un paese sostanzialmente ingovernabile. Pechino ha già messo in conto tutto ciò e non intende farsi sfuggire la ghiotta occasione di esercitare la propria influenza in uno scacchiere, quello che va dall'Iran al Pakistan e dall'Uzbekistan al Turkmenistan, al Tajikistan, improvvisamente lasciato libero dalla presenza americana e che altrimenti potrebbe rivelarsi una spina nel fianco. Dell'Afghanistan la Cina ha bisogno non soltanto per gli appetiti che le prospezioni minerarie assicurano, le famose terre rare delle quali Pechino è possessore e manipolatore mondiale per l'80% e di cui il paese in mano ai taleban abbonda, ma anche perché un simile vicino alleato garantirebbe maggiore controllo del sottile corridoio che separa l'Afghanistan dagli Uighiri dell'Oxinyang, la minoranza di etnia turcofona e di credo musulmano, duramente repressa da Pechino. Poi via via il resto di questo editoriale. E passiamo al Sole 24 ore, il giornale di Confindustria che a proposito dei temi economici analizza le conseguenze di un Green Pass esteso ad altri 3 milioni di lavoratori. Leggiamo. Il percorso è tracciato dal Governo. Estendere il Green Pass prima ai lavoratori dei settori dove il certificato è richiesto ai clienti, ristoranti, trasporti, palestre, cinema e poi ai dipendenti pubblici che lo stanno già attestando con il personale scolastico. Non è escluso che l'obbligo anti-Covid non scatti già a fine settembre o inizio d'ottobre per tutta questa platea di 3,2 milioni di lavoratori, di cui 1.200.000 dipendenti dalla pubblica amministrazione, esclusi sanità e istruzione, dove già oggi tra obbligo vaccinale e pass sono coinvolte 3 milioni e mezzo di persone. Sarà questo uno dei nodi da sciogliere nella cabina di regia che il Governo riunirà la prossima settimana. Tra l'altro questo potrebbe essere l'antipasto di un più generalizzato obbligo di Green Pass per tutti i luoghi di lavoro su cui da tempo Confindustria chiede un confronto dopo gli incidenti in commissione, dove la Lega ha votato per abolirlo, si punta ad un nuovo decreto, una strada non in discesa per la maggioranza. E poi l'altro titolo è Pazzali, il super salone unisce città, imprese e culture, un evento speciale del Salone del Mobile che domani aprirà negli spazi della Fiera di Milano a Rò. Fiducia delle imprese ai massimi livelli, l'indice Ambrosetti, leggiamo, non ci sono solo le grandi vittorie dell'Italia nello sport, c'è il PIL che cresce oltre le aspettative, 4,7% secondo l'Istat, 5,1% per la Banca d'Italia, 4,9% per l'European House Ambrosetti, 5% per l'Unione Europea. E la dinamica positiva si riflette sull'aumento della fiducia delle imprese arrivata al massimo storico, 70,6 punti a settembre, in base ai dati dell'Ambrosetti Club Economic Indicator, più del doppio rispetto a giugno, 30,2%. Accelerazione record con il governo Draghi, decisivo, ora attuare il PNRR. E passiamo al messaggero, il giornale della Capitale che titola Pass obbligatorio in azienda. Il piano del governo da ottobre, certificato verde richiesto in tutte le imprese private, apertura dei sindacati, ma i tamponi siano gratis, nuovo picco di contagi nelle RSA. Entro la fine di ottobre sarà il Green Pass il motore del Paese e l'obiettivo del governo. Il passaporto verde verrà esteso tra poco meno di un mese ai dipendenti pubblici e ai lavoratori di quei settori dove già è obbligatorio per clienti e utenti. E a seguire il QR code sarà necessario anche per entrare in azienda e in fabbrica. Il responsabile del lavoro, Andrea Orlando, conferma. Il passaporto verde in azienda e in fabbrica verrà introdotto. E poi c'è una notizia confortante per chi deve pagare le tasse e le carezze del fisco sulle cartelle sattoriali. Più tempo per rateizzare i debiti. Lunedì scade il termine per la rottamazione. La macchina della risoluzione delle tasse si rimette in moto e anche se il fisco userà ancora la mano morbida con strategia di dilazioni e rateizzazioni, ma sarà l'ultima volta, bisognerà fare attenzione ad alcune scadenze. Il primo settembre sono ripartiti i pagamenti di cartelle e rate sospese. E poi ancora a Kabul il dialogo tra Unione Europea e talebani. Ecco i cinque punti per trattare. Li abbiamo letti per esteso nella prima pagina di avvenire. E poi vedete a centropagina la mia voce che segna le ore. La vedete nella cattedrale di Lausanne in Svizzera, la prima donna a scandire il tempo sulla cattedrale appunto di Lausanne. Le lacrime in tv del papà di Joelle, ma voglio soldi, depositate le intercettazioni shock del marito della DJ scomparsa con il figlio nel messinese. Emergono dettagli drammatici dalla richiesta di archiviazione sulla vicenda del piccolo Joelle Mondello e della sua mamma, la DJ Viviana Parisi, trovati morti a Caronia. Il papà Joelle intercettato, se mi vogliono in tv devono darmi tanti soldi. E poi l'inchiesta, il rogo della skipper, ci sono tre indagati per omicidio colposo. Paura a Torino in un altro incendio devasta un palazzo, è l'ultimo titolo di questo giornale. Poi passiamo al mattino il giornale di Napoli e della Campania. Al lavoro con il Green Pass, da ottobre anche i privati, un titolo alquanto eloquente. Obbligo in tutte le imprese, la roadmap, prima gli statali poi tutti gli altri, vaccini per legge. Salvini insiste, voteremo no, ma resteremo al governo. E a questo proposito si spacca la Lega con le perplessità del nord-est. Gli imprenditori vicini alla Lega scrivono a Salvini, Matteo, stavolta non ti capiamo, c'è naturalmente la richiesta da parte degli imprenditori di poter mettere in sicurezza le proprie aziende, perché avere dipendenti Novax è un pericolo per tutti i propri dipendenti, e quindi per la tenuta stessa dell'azienda. E poi in Campania, autobus gratis agli studenti, ma solo se hanno il certificato. E vedete che c'è anche l'analisi di Massimo Adinolfi, che parla della potenza del sorriso, sornione di Draghi. E ancora le liste di Napoli tra LITI, Cacciavip e Volta Gabbana. È un riferimento alle elezioni in programma il 3 e 4 ottobre, ma ovviamente siamo già in regime di parcondicio, per cui saltiamo a pie pari l'argomento. Punto di Vespa, Bruno Vespa scrive al Capitano, lo strappo non conviene. Per convincere Matteo Salvini ad entrare nel governo guidato da Mario Draghi, Giancarlo Giorgetti gli ha detto, perderemo consenso nell'immediato, ma se un giorno dovessimo governare noi, l'Europa non potrebbe battere ciglio. E all'incredulo corrispondente del Financial Times, che gli chiedeva come mai il Barbarian fosse diventato europeista, il leader della Lega Salvini rispose, eravamo contrari all'Europa che ci imponeva l'austerità, siamo favorevoli all'Europa che ci consente di spendere per crescere. Insomma, le solite schermaglie politiche. E poi Kabul, caduto anche il Panshir, ma la trattativa davanti, i talebani dilagano l'Europa dialoga. E poi una vicenda che riguarda proprio la Campania, Casal di Principe, a pochi passi da Napoli, dalle ruspe agli spari. Dopo gli abbattimenti i clan rialzano la testa, ne parla l'inviato Gigi di Fiore. Mentre due giorni fa l'impietoso escavatore rosso sbriciolava come burro la palazzina delle famiglie stabili in via Ancona, tra la gente di Casal di Principe, c'era chi commentava con amarezza. Era meglio quando c'era la camorra. Uno stato d'animo esploso improvviso nel paese casertano che cerca di rinascere dopo un trentennio di cappa camorristea. E preoccupano gli spari contro la sede di casa dondiana, ospitata in un bene confiscato. Il timore è che i clan possano giocare sulla rabbia dei cittadini. E poi c'è l'emergenza in Campania. La lotta all'inquinamento deve partire dalle mappe. Ne parla Maurizio Bifulco. E chiudiamo con il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, il giornale diretto da Roberto Napoletano che nel suo editoriale titola No al manuale Cencelli sui progetti. La debolezza ministeriale e le peggiori burocrazie centrali e regionali portano guasti irrecuperabili. Siamo sconcertati davanti ai tre decreti del ministro Giovannini sui porti, trasporto pubblico locale e materiale rotabile ferroviario. Dov'è l'accelerazione sui progetti strategici di sistema della grande logistica e della grande portualità a Taranto come a Gioia Tauro, a Napoli come ad Augusta? Siamo di fronte a nuove operazioni di propaganda che possano incrinare la fiducia in un forte crescita di famiglie e imprese grazie al grande merito dell'azione risoluta di Draghi su campagna di vaccinazione, recovery plan e riapertura della scuola. Insomma preoccupazioni molto forti. E infatti arriva l'altro titolo di LIA Romagno, decreti attuativi, una rete che imbriglia 38 miliardi, la mossa di Draghi per accelerare i tempi. E infine il nuovo 29, la Cina è il paese uscito meglio dalla pandemia, come cambiano gli equilibri economici. L'ultimo titolo riguarda l'agricoltura, Made in Italy, chiamatelo Made in Sud, tre regioni guidano la riscossa del cibo, ne parla Anna Maria Capparelli. Ed era questo l'ultimo titolo di questo appuntamento settimanale con la nostra rassegna stampa che torna lunedì regolarmente, stessa ora e stessa rete. Per il momento non andate via, restate con i nostri programmi e buon weekend.